Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata di Katerin. Noterete subito che questo gameplay ricomincia da dove c'eravamo lasciati ieri perché avevo registrato il tutto in una volta sola, solo che poi il video era diventato talmente lungo che sono stato costretto a dividerlo in due. Diciamo che io ero convinto di essere ormai al finale del gioco e invece ragazzi, invece vedrete perché questa puntata ci riserverà colpi di scena devastanti. Non vi dico altro, vi lascio con il video. Wow. Ed è nudo ancora. Che cazzo? Era tutto un sogno? Non esiste? Cioè non è mai stata qui? Ma perché fai così scemo? Ehi, Katerin? Che cazzo? Che sta succedendo? Oh, quindi è quello che sta succedendo. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Non lo viste? Non, non sembra di essere qui oggi. Guarda, dobbiamo parlare. Adesso siamo nella realtà, però? Sì, sì, ho accettato, ma tutto è bene ora. E dopo tutto, io... E poi, stoppia di spiegare per un secondo. Non hai fatto un po' di sensazione questa volta. Sei una stessa stessa. Guarda, guarda. Che cazzo sta succedendo? Non mi ricordo niente? Ti stai soggetto? Non ho avuto il tuo telefono, quindi sono arrivato. Stai arrivando al giorno, nel tuo dormitore. Ah, da me stesso? Sì. Sì, è stato tutto un sogno, meno male perché, cazzo, è un omicidio. Sì, guarda. Oh, grazie a Dio che sei sicuro. Molte cose stanno succedendo, ma... ma ho capito. Ho prometto che ti trattare bene. Eh? Oh, il bambino. Non sei veramente incinta? Era un falso allarme? Secondo me sì. Eccola! 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 Un falso? Sì. Cioè, sei sicuro? Eccola! Ecco, guarda. Ho sbagliato Catherine e ero pronta per cascata. Ma che più potrei fare? Un falso? Ok, guarda un secondo. Come fa a sapere tutto mo? Un'altra con il stesso nome come me. No, guarda, guarda. E' stato proprio confuso. E' finita con lei. Ok? E' finita con lei non vedo mai. E' finita con lei. E' finita con lei. E' vero, quindi, mi perdite. E' finita con lei. E' finita con lei. T'ha scambato in pieno. Sì. Non te l'ha detto perché aveva paura di essere lasciata? Che faccia madonna? Non ti l'ha detto. Inoltre, non ero venuto qui per discutere questo. Guarda, potremmo rinforzare questo. Ammi. 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 Qualche cosa ti piace. Io farò tutto per te. Ok? Perché sembra che sorride mentre lo dice? C'è strana sta cosa. Cazzo, non gli spiace per un cazzo lei comunque. Buongiorno. C'è proprietà scaricato come una merda. Un po' te la sei cercata, eh? Però anche lei probabilmente non era così coinvolta. Tutto sommato. Qui puoi salvare. Ok. Salviamo. Penso che sia finito il gioco a questo punto. Mi chiedo se ci fossero dei finali alternativi. Andrò sicuramente a cercare perché... Non lo so. Proprio un finale inaspettato devo dire. Però molto realistico alla fine. Cioè non finisce come una fiaba ma è stato punito. Cinque anni. Cioè da cinque anni in che senso? Che vi siete lasciati? O che stavate insieme da cinque anni? Cioè... 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 E' un messaggio? Ah, chiamata di lavoro Seppure hai preso il raffreddore Ok Sì, insomma Un finale molto Diciamo, riflessivo Ma ancora non è finita? Lui si gira la città, è single, però Boh Non si è finita, ragazzi Sì, finisci a morire per vero non ho aspettato Se volessero pensare che la tua vecchia donna sarebbe tutta la notizia, dopo tutto, mi hai detto che lei ha scoperto l'altra donna, certo? Quindi, eh, cosa è il problema? La donna non chiamava te nemmeno? Non lo so, non lo so... Sì, insomma, alla fine ne aveva due, è rimasto da solo... Non ha capito che l'incubo era reale, a quanto pare... Nessuno ha chiamato da nessuno... Non c'è più... Non ci sono più i messaggi di lei? È scomparsa nel nulla, come era comparsa da nulla... E quell'altro gli passa la carta igienica... Anche i suoi dati? La foto? La foto? Come non sei neanche riuscito a vederla? Cioè, mi stai dicendo che era tutto un suo sogno? Cioè, lui, la sua amante, se l'hai sognata dall'inizio alla fine, quindi... Come cazzo può essere? Ma, eppure era lì con lei al bar, qualcuno l'avrà vista, no? No, non può essere tutto un sogno... Ah no! Mi hai visto con lei e lui dice di no, quindi si sognava proprio tutto... Se l'hai sognata, non esisteva... Che inculata pazzesca! Lui era convinto che esisteva, ma... Non era così... Si, come se mi ha i pensi per fare così... Cosa cosa... Guarda, io solo ho visto a te avesse... C'era tutto vero, ragazzi... C'erano parlare, ma sei proprio qui... Non è vero... Guarda, ragazzi... Non mi hauto dire questo, ma magari tu stai facendo perdere... Non mi hauto... Non parli di dire questo, mi chiede di questionare la mia sanità qui, ragazzo. Tu eri sanato prima? Tu eravamo solo distratto, certo? Non è possibile. Questo sarebbe come... Cioè lui non ha mai tradito la sua ragazza, quindi. Guarda, guarda. C'è arrivato. In una barra così, sembra come la sua. Niente... No, è impossibile. Che inculata pazzesca, mamma mia. Era proprio la ragazza dei sogni, eh? Eh eh eh, si. Ehi, tu era una roba, ragazzo. Tutte le tracce di lei sono morti. Niente ha visto lei. Questo non può essere vero. Tu, sei davvero scusato, ragazzo. Non sono pazzo, invece mi sa di sì. Cioè, è come se lui è stato messo alla prova da qualcuno, no? Il suo amore è stato messo alla prova. Ed è caduto in tentazione. Eh eh eh, uoh, uoh, uoh. E' vero. E' vero. Il telefono è solo scusato, è tutto. E la prima notte... Non eravamo attenzione, certo? Ecco qua? Non ho visto nulla. Non credi? Cosa cosa, ragazzi. Erika. E qui potrebbe tornare il discorso che facevo. Minchia, è proprio scosso lui. Però, appunto, dicevo che Erika magari potrebbe centrare qualcosa con l'incubo. Forse anche Boss. Le morti alla fine sono state reali. L'incubo c'è. Katherine è stata un'illusione di Vincent. Per metterlo alla prova. Il suo amore è stato messo alla prova forse da Erika stessa. O da qualcuno che sta dietro tutto ciò. Ma chi? Chi è il mastermind? Chi è il cattivo della situazione? No, lei non ne sa niente, no? Sì, tu parla di l'incubo l'incubo, non? Mi ricordo tutto. Tu veni qui solo, tu lasciati solo, e la volta che tu eravamo solo. Certo, Tobey? È proprio come mi ricordo. Talvez tu sia spazato da un po' di dorme. Dopo tutto, tu eravamo abbastanza l'incubo l'incubo l'incubo. Sì, tu eravamo totalmente f***, ragazzi. Quindi, cosa? C'era proprio dimenticare la volta che eravamo? Mi ricordo di questi sottotitoli i sottotitoli ogni sottotitoli. Poi, e quando i sottotitoli i sottotitoli? È così sottotitoli! Certo, ragazzi, guardatevi l'incubo. Sono solo in questo messo, perché ho scattato con lei. Voi, qualcuno mi racconta, dove è lei? Lui, non lo so. Il cuore è peggio. Hai, sei ok? Sì, così. Tu eravamo proprio così. Stavo sognando, sì. E quello è il problema. In ogni modo, le pills e l'alcohol. Non funziona per questo. Sì. Stavo sognando, sì. Wow! Stavate ancora l'incubo? Allora, ora che ti ho menzionato, Erika sembrava che stava in un sogno anche. Hai notato? Non mi ricordo niente, però. Com'è che lei ha un incubo? Non mi ricordo che lei ha un incubo. Non mi ricordo che lei ha un incubo. Quindi, magari il giovane non importa, eh? Oh, ehm... Non nemmeno sicuro. È perché voi non fermatevi sui sogni. È la stessa cosa con gli altri clienti, anche. È una reazione di reazione? Eh, i sogni che abbiamo avuto. Non ti sentite che siamo tutti vediati un sogno? Sì? Sì. Non mi ricordo molto, ma... Tu sai, mi sembrava che... Mi sembrava andare fuori da qualcosa. È così? 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 Ci stiamo mostrando il sogno? Tomas... Le sogno sono solo una riflessione di stresso di quotidiano. Stresso? Da cosa? È così? Di costruzione di stresso di vita quotidiana. Oh, sì... ma... Ci означano che l'ho avuto le piazza anche, in questo modo? Oh, no... Oh, spero non! È tutto perché questo uomo ha fatto parlare su questo. Dopo che ci sono così diaba molto se ho trouvato il vostro controllo di lui. Allora, Vincent... Come ti sembravi con noi, eh? Eh? Un' soita. Oh... Ha la distanza di nuovo. Io sto stai a casa. Questa ha giocato... Ma, è vero che qualcuno sia così male? Abbiamo un passaggio presto in avanti, anche. Oh, sì, tu è vero. Dobbiamo andare a andare. Hey, Vincent, siamo arrivati ora. Sei sicuro che sei bene con te stessi? Non è vero. Il giurio è ancora fuori. Non è vero che ci ha incontrato questa ragazza dopo, non è vero? Idiota. Non farò questo, ma io l'ai visto l'ultima notte. Eppure mi sa che non è il finale questo Perché si sta dilungando Così tanto la faccenda Non può essere finita qui Siamo fuori dall'incubo però Cioè l'incubo è finito Quella Katherine L'amante era solo un'illusione Quindi lui non ha mai tradito La sua ragazza che invece lo ha lasciato Perché pensa che lo ha tradito E lui ha anche confessato Flashback pesanti In una settimana si è rovinato la vita Veramente C'è un'illusione C'è un'illusione C'era qualcosa Un sacco di tempo Boss Bastardo Tu sei tutto Tu sei tutto Sei troppo misterioso Tu sei qualcosa Un sogno Un sogno è qualcosa che scomparirà A prescindere da quanto Si desidera credervi Questa frase è azzeccata In questo momento Però che cos'è questo Un caricamento Che sta succedendo È un caricamento Si Ok Wow Che sta succedendo Dai, sputerrospo, di qualcosa Ci hai parlato Gli altri non l'hanno vista Ma lui proprio ci aveva parlato È l'unico A parte noi Quindi l'ha vista veramente Sai anche i dettagli Oh, a scoprirlo Quindi chi sei tu No, no, aspetta Non esiste Che sta succedendo? Non è di questo mondo Quindi è lui che dà gli incubi e la gente Non è che è proprio lui È lui quello del confessionale, forse Lui pensava che lui si ricordasse Degli incubi nella veglia Invece parlava solo della ragazza Si stava sbilanciando Ci stava dicendo qualcosa Eh, come si stava Eccolo Bravo Dobbiamo smascherarlo subito Benchè devi parlare Ti spacchiamo in testa le bottiglie Se non parli Quasi che si solle Che significa? Non ho detto Hai detto Non ho detto Non ho detto Stopa s***mi con me Sì che sei che sei scendendo qualcosa Dice Non so C'è perché devo andare a cercare tutto questo? Non è solo tu Scusate Non ho aspettato questo turno di eventi S***vi Ma ogni giorno non è sperimentato per me Ma cosa è con queste s***vi? Tu sei in piaccia Gli occhi Gli occhi che abbiamo quando ci svegliamo Merda Oh che figata ragazzi Cosa stiamo scoprendo Thomas Mutton Ah è quello delle frasi Oh Ma che A lei non è sa niente Lei è fuori veramente Ok ho sospettato di lei ma No Quindi c'entra con i Tasso di popolazione Chi sei Ma che cazzo di svolta Wow ragazzi Wow ragazzi Quindi lui maledice E poi lei compare Ma non è umana Per trovare un modo Per fargli rompere Ok Beh, non è come se avevo iniziato questo lavoro a mattina. Dopo tutto, la razza che tu eri nascita era perché abbiamo sbagliato l'uomo che aveva misurato il mio amore. Io credo che questo era il caso. Ha fatto la stessa cosa con sua madre? Se non hai pensato di credere, è bene. Però è un vero necessario. Tenere un cuore bruciato può essere doloroso, ma anche tu hai ottenuto la tua libertà. Inoltre, hai una fiersa wille per survivre. Tu dovresti essere capito di capire la felicità di nuovo, in più. Per me... ...la... ...la già famiglia. Ho solo capito questo dopo che eri sbagliato. Che patente è quello? Non posso davvero aiutarti. Questa tutta situazione è tua culo, certo? Quindi cosa ti farei per... Mi sa che è la prima volta che si trova in una situazione così. Ma sicuramente non è la mia, tu sei la causa di tutto. Purtroppo, ero pronti per diventare marrone. Hai avuto il tuo obiettivo! Ma questo era solo per il tuo chiedere sull'altra, certo? Inoltre, è troppo lento per parlare con lei ora. Tu non riesci a decidere quello! Dai, andiamo contro il fato addirittura qua. Cosa? Di nuovo? Un'altra notte? Oh, mio Dio! Cazzo sta succedendo? Non ve lo chiedete. Eh? Oh, hai? Ah, è tutto? E' qualcosa che succede? Poi, ragazzi! Boss e Vincent sono... Bene, non c'è qualcosa di più! Ma... 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 Cosa è? Non c'è? Mi, sorry, non ho finito il mio chat con lui. Ti stai facendo la partita senza me. Cosa cosa che ti chiedi. Non vai agro, tu fredda. Non preoccupare, stiamo... Stiamo giocando qualche giocatura qui. Certo? Sì, è vero Che situazione è Sì, andatevene che è meglio Uuu Oh, salviamo tutti, dai Questo è impossibile Se vinciamo un'altra notte La notte più difficile Potremmo rincontrare quella Katerin Sì, comunque il boss è quello nel confessionale Per forza Boss è scomparso Cioè io pensavo che il finale era la fine, la cattedrale Invece sto gioco c'è Ci sta ancora riservando il meglio del meglio qua Wow Potremmo muoverci nel bar a questo punto Salvare la partita Non so come vedrete strutturate queste puntate Perché sto registrando da un sacco di tempo Ma non potevo interrompere assolutamente E in effetti Controlla il telefono Salva Va bene Ragazzi Probabilmente verranno fuori due puntate Da questo Da questo gameplay diciamo che ho fatto Quindi vi saluto Nella scorsa puntata forse non vi avrò salutato Avrò spezzato in due Comunque Ci vediamo ancora per un'altra puntata Un'altra notte Vedremo se Vincent riuscirà a salvare tutta la situazione Oppure no Quindi detto ciò Un saluto da Aaron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti